Ciao a tutti ragazzi da Conradsonuto9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Pokémon, Solar Light e Lunar Dark sempre in compagnia del grandissimo Regent Ciao ragazzi, eccoci qui, allora sto per andare in aiuto di Conrad che è stato attaccato a tradimento da un gruppo di malviventi Mamma mia, è un assalto incredibile Esatto, sono in tre, giusto, in quanti sono Conrad? Sono proprio in tre Lo hanno attaccato anche di spalle Dicono che hanno ottenuto da Vaultstone Vediamo un po' Comandante Bright, questa missione è stata un successo Bene, almeno abbiamo ottenuto prima del team Lunar Esatto In rivalità ragazzi Esatto, il team praticamente solare contro il team buio Mi sembra una cosa un attimino che mi ricorda Pokémon Smeraldo e Pokémon Zaffiro, fantastica Sì Chi sei? È una spia del team Lunar Ti stai spiando? Ah, dovremmo parlarle E quindi cominciano a sfidarci Ok, come sapete ragazzi, i malviventi hanno sempre Tendono sempre a riflettere la loro malvagità sugli altri Quindi siamo stati equivocati per delle spie Esatto, allora Mandano uno snap up Pokémon molto interessante Tipo, è elettro-veleno E poi un Fibbit Che sinceramente non so di che tipo sia Tu lo sai, Regent? Fibbit è fuoco-fata Ragazzi, io ho un nuovo acquisto in questo team che è d'obbligo Per il momento è un Pokémon tipo terra Condrad è a posto perché il suo starter lo è Però in questo punto ragazzi non ve la cavate Se non avete un Pokémon tipo terra Assolutamente C'è tanto elettro Tanto elettro Tanto... Quindi mi raccomando Elettro-veleno Quindi giustamente Si, elettro-veleno Terra Esatto E anche, mi sembra Terra-elettro Ecco, soprattutto Adesso qui abbiamo un bel timone Ok Vediamo se riesco Perché si è messo il nostro duro Questo snap up Ok, battuto Eh, dovresti riuscire a uccidere con un attacco tipo terra Perché i fai per 4 Purtroppo non avevo Axel Nelle prime scelte Comunque Ce l'ho fatta comunque Ok Il mio sabbiatomba ha fallito miseramente Grandioso Stupio bambino Non è a infiltrarti negli affari del team Solar Simpatici Molto, molto I bambini non hanno speranza di fare Di distruggere i nostri piani Ti farò vedere con che hai a che fare E quindi ci sfiderà anche, diciamo, il comandante Per così dire Come era successo nella foresta con il team Lunad Sì, io sto arrivando Sto arrivando Ci manda Uh Dinable Praticamente una bomba Una bomba È perfetto per questo team In questo momento, ragazzi, io non riesco bene a inquadrare Quali sono i Pokémon di questo team C'è un team di luce, quindi Vuol dire elettricità, fuoco, qualcosa del genere Sai che non riesco a capire di che tipo sia Dinable Penso sia dal nome un po' anche vedendo Com'è Pensavo fosse tipo Eh, Dinamo è elettro Sì, elettro sicuramente Però l'altro tipo no Non è fuoco perché non li faccio super efficace con una mossa acqua Però non importa Ma andiamo in campo Axel così Eh, ma non li fai super efficace perché c'è una parte elettro probabilmente Per questo No, ma in teoria acqua comunque è normalissima Non su elettro Non è che fa Ah, già è vero, c'hai ragione È vero, c'hai ragione Perché mi confondo sempre, è vero? Non so qual è il motivo Vabbè Comunque Mi sono dimenticato davvero Mi continua a dimenticare E lo dico prima che mi dimentichi un'altra volta Che Continuate a scrivermi nei commenti Giustamente Che C'è stata una grande fatalità Nel scegliere il nome del nostro start Quindi Axel Perché ragazzi Axel come abilità Adesso ve lo farò vedere appunto Appena usciti dalla Dalla lotta Come abilità A Blaze Che è proprio il cognome di Axel Quindi Axel Blaze Che sarebbe il personaggio Uno dei protagonisti di Nazuma È proprio All'interno di questa serie Quindi ragazzi Pollicioni su per questa fatalità incredibile Sì 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 Ragazzi mi raccomando Quei pollicioni in su Se la serie vi piace Potremmo decidere anche Di portarvi degli extra Quindi parti aggiuntive Missioni segreti Leggendari Tutto sta a voi A quanto vi piace Esattamente Tanto ho avuto anche l'ufficiale Che dice che Lo fa diventare davvero Arrabbiato Anzi C'ho ancora un Flock Questo uccellino Lo potete trovare Negli alberi qui intorno Con capocciata Il problema è che Noi non sapevamo Dove trovare la pietà Tra focai E quindi Rimane lì a terra Il femmino Va bene Allora Non importa Non abbiamo quello che ci serve Non ci saranno bambini Che ci ostacolano Sto fortunato La prossima volta Non lo sarai Sì fortunato Proprio Già L'ho battuto anch'io C'è questa campeggiatrice Che secondo me Ha bisogno di una lezione Ragazzi Allora andiamoci subito A rubargli Quello Incredibile Zaino Vediamo Vediamo cosa ha dentro Ragazzi Allora un Pokémon Attenzione c'è un Pokémon Corrad Fibit Fibit Oddio Questa creatura Cioè a me mi fa gola Posso dire perché Cioè non dovrei dire Beh mi Però Mi fa gola Perché ha tre evoluzioni E poi di tipo Fuoco e Fata Quindi non è male Eh non è male Però noi siamo già pieni Allora facciamo così Fata o Gold Che volendo potrei anche Stituire perché comunque È un Fata a Coleottero Però fuoco Axel Axel lo vorrei tenere A proposito di Axel Faccio vedere immediatamente Che è proprio come abilità Blaze Così Mi credete Vedo io Vedo io che ho flash Ok aspetta un attimo Se è quell'altra grotta Lo vediamo subito perché ho flash Se è quell'altra grotta Perdiamo tempo Perché ci guarda la surf È diverso È diverso Qui c'è ancora surf da fare Però ora uso flash Perché ce l'ho flash Adesso che ci penso con Faye Si può scendere E Allora non è detto che bisogna usare flash Fammi vedere un attimo No no Sì cioè Allora trovi rocciatomba Ecco cosa serve Ok sto arrivando E tu sai dove c'è un Un campettista qui Dove c'è la campeggina Sono lì Ecco allora Saliamo Si va verso l'alto Saliamo Saliamo E troveremo un altro Con lo zaino qui Perché Perché io c'ho I pokemon selvatici Ok ho capito Non ho più revitalizzanti Mannaggia Sto arrivando a Corrad Intanto io comincio la lotta Che poco non ha è forte È uno zuppico Lì Eletro Al 16 Ah Ma è un campeggista C'è il pokemon elettrico Eh Infame Infame Questo lo facciamo pagare Basta Non è molto Molto convinto Non è molto deciso Infame È un po' confuso Facciamo così Vediamo Allora io mando Rioma Che è fortissimo Ragazzi È davvero un po' Confortissimo Ha questo inconveniente Come moltissimi Poco antipotera Impara mosse serie A livello circa 26 Che è tardi Però io ho intenzione Almeno di usare Le mie caramelle rare E farlo arrivare Prima a livello 26 Prima della palestra Se no La vedo molto dura Vincere con sabbio tomba E sto affrontando Un altro backpacker Un altro montanaro Ok arrivo Vediamo un po' E ci manda Un goal kid Quindi il robotino di roccia E io andrò Di materia oscura Vediamo se Le faccio qualcosina Sì dai Ah lo vedo Mamma mia Quanto è obeso Quanto è obeso Ragazzi Cioè Prende tutto il sentiero Mamma È come Slorlax Bisogna usare il pokefly Ma è lui infatti È vero Sembrava tipo Slorlax Adormentato Questo si muove Avanti e indietro Però Può essere forte Questo goal kid Mi ha fatto un critical Con testata Mi togli un sacco C'è molta difesa E molto attacco E c'è quel cavolo Di vigore Che lo rende fastidiosissimo Solo l'avevi già spazzato via Edbat Oh sì Toglie tanto Toglie tanto ragazzi Toglie tanto Qui metta vita su fei Che fra poco Quindi sostituirò Ok Ammazzato Toron Toron Questo toron è il mio rioma Non è un problema Noi abbiamo un attaccante Ragazzi Tipo erba Che è un mostro Si mangia tutto Questo qui Tutto 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 si mangia Rosi è pazzesca È un po' che è un pazzesco Ok Quindi anche Anche Jason Questo grassone Ha smesso Anche il mio Harley Sì 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 Gli abbiamo fatto abbassare la cresta Eh sì Adesso abbiamo trovato Una fune di fuga Attenzione Perché ci sarà utile Immagino perché Tutto questo Questa parte qui È piena di caverne Tanto E indovina un po' Corad Prossima Tappa Una caverna Chissà perché Non mi sorprende Io ti aspetto C'è un medico Mi sa che una volta battuto Ci cura la squadra È perché Sai che Simon a livello 20 Muore Comunque io ce l'ho ancora Il 14 Geniale questa battuta Oddio Adesso non ho capito Ma geniale Geniale La battuta Non alla portata Di tutti Solo che ha giocato In alzù Non può capire Ok Affrontiamo Quest'infermiere Ho una certa fretta Perché mi sono rimasti Solo tre pokemon Quindi devo assolutamente Curare la squadra Aia Aia Vediamolo Vediamo Che pokemon ha Di solito Infermiere Ah uno Zap Ci ho azzeccato Ragazzi Ho la predict Perfetta Rioma può Andare con Sabbiatomba Che fa danno per 4 E questo pokemon È morto Addio Purtroppo invece C'ho Harley davanti Non ho predictato Per niente Però Un acquaggetto Ma me lo manda Quasi giù Io registro Tuono shock Sì Con 10 ps E adesso questo Ti risana Ottimo Acquaggetto Ed è finita Ok Fate risanare Andiamo un po' E poi mi sa Che questa grotta Sarà opzionale Ma andiamo a vedere Cosa c'è dentro Tanto per Vai tu intanto Allora Mentre io Ok però se trovo Una caramella rara Non te lo dico No sto scherzando Rivedrò l'episodio Vediamo Uso la mia fedele Uso la mia fedele lucciola Così saprò Un attimino Cosa mi circonda Eugene ragazzi Da un sacco di soddisfazioni Ve lo dico Strano Cioè noi stiamo Dentro una grotta E stiamo illuminando Con una lucciola È geniale Questa cosa E vi ricordo Tutto questo Nelle moda Ok ci sono degli allenatori Io ti consiglio Di entrare Almeno livelli un po' Se vuoi Arrivo arrivo Secondo me Gli allenatori Costudiscono qualcosa Di bello Allora arrivo Mi fido Mi fido Andiamo un po' Allora a destra C'era volcotto Mamma che non riesco a salire Ok a destra C'era forse uno strumento Qui no Non c'è niente Allora scendiamo A sinistra Eccolo qui l'allenatore Cosa è un pescatore Attento che c'è Il tuo pokemon preferito Attento che c'è Il tuo pokemon preferito E' lui Hanno solo questo Nelle caverne Dunque ragazzi Io penso che questo pokemon Sia parecchio spaventoso Sembra una specie Di feticio voodoo Tipo da film del terrore No Cos'è che ha fatto Mi ha fatto tipo Una specie di attacco rapido Di roccia E' possibile Non penso Perché prima Mi ha colpito dopo Dopo mi ha colpito prima Attacchi di priority di roccia Non penso esistano Nel gioco normale Se vai sempre di giù Dopo che è passato il tipo C'è il ferro Hai del ferro Hai del ferro Ottimo Era caduto a massa Adesso mi è venuto in mente Però niente Quella velocità Eh no Allora mi sa che c'è un pokemon Molto lento Ok sei già fuori da caverna Va bene Arrivo Arrivo Profumina Una profumina Arrivo Allora cosa ci vuole Per una profumina E ha un buscio davanti Quindi Pokemon volante Fuoco Ha un pokemon volante Ok no no Ma io ho Eugene Che è un insetto Ragazzi Con i fiocchi E con le luci Anche Esatto Ok un altro buscio Io Ragazzi Vi dico che Userò semplicemente Questa mossa Che è anche Tipo se mitraia Ma speciale E che non da Non lascia Ragazzi Non lascia niente Nessuno vivo Bomba insetto Bomba insetto Avete già visto Nel episodio precedente Il danno che fa Infatti spazzerà via Tutta questa squadra La spazzerà via Ok Ho voluto due buscio di fila E nonostante la mia squadra Non sia molto livellata Riesco Grazie Alla mia grandissima esperienza Alla mia grandissima Modestia Anni Anni Di abilità ragazzi Forgiata su Pokemon Inazuma Hanno reso Conrad Un uomo di mondo Delle hack Esatto No comunque L'ho passata velocemente Ma adesso Quando la sconfiggi Dimmi che frase dici Prima di darti i soldi E non lo so Ho fatto A Velocemente Ah non è Si è andato avanti Ma probabilmente Mi avrà detto Regent Fammi tua Portami a casa tua Ok vai avanti Vai avanti Perché c'è un dialogo Con il personaggio Nostro rivale Ok arrivo Sto arrivando Ancora tu Perché mi segui Comunque ragazzi La profumina mi ha chiesto Il numero di telefono Non so A Conrad Forse no Ma a me si sicuramente Ok Eccolo lì Mamma mia ragazzi Che brutti capelli Perché c'è la sciarpa Perché è vestito invernale Qui nel deserto Sto tipo Lasciamo perdere Allora comunque la frase La frase Ho detto La frase Che mi era sembrata di Vedere proprio in velocità Della profumina Era It smells like Ten spirits Teen spirits anzi Eh ma Di cosa parlava Di cosa parlava Cos'è che profuma così No vabbè No vabbè No è una citazione Una citazione È una canzone Dei Nirvana Non so se conosci Ma complimenti Bella questa No no Io di musica so poco No invece io sono un po' più esperto Mi piace Sono tipo da credence Io sono più tipo da credence Da roba del genere Quindi proprio È una citazione È una Un easter egg Se vogliamo ecco Intanto affrontiamo Lo sto rivale Ci mando un toron Quindi io Con Gabby ho Diciamo predictato Ovviamente Senza volerlo Eh Lo vedo È un'azione un po' difficile Allora io ho davanti Eugene Ah no Eugene no Eugene tu qui non stai bene Direi che possiamo fare cosa Possiamo andare avanti Mi manda Jumple Mi manda Jumple Quindi posso Abrustolirlo Perché lo odio Odio i grilli Odio Jumple No ho sbagliato No Porca miseria Ragazzi a me Non so te Ma a me Toron mi ha usato È presente Spruzzo Di roccia Di terra Che indebolisce Esatto Indebolisce L'attacco I pokemon elettrici Ma adesso Un pokemon tipo terra Cosa se ne fa È vero Attenzione Oddio c'è Jumple Oddio c'è Non ho neanche visto che Pokemon ha dopo Però metto a caso Golden Giuro che non l'ho visto Vabbè mi è passato veloce Eh ma c'è Ma c'è avrà quell'uccello L'uccello grasso Eccolo lì Proprio lì Cioè rosso Paracau Eh non lo spiego neanche Quindi ho sbagliato Un pochino Vabbè Quick attack Io sto usando Papa ragazzi Che è di 4 livelli Inferiore a Jumple Ma se riesco a batterlo Sono un mito Allora andiamo per Beccata E Beccata fallisce Papa Sei un grandissimo Una meraviglia Una meraviglia È fallito di nuovo Vabbè Ma adesso Se io volevo cambiare Mi è stato no Mi ha dato no Così a caso Vabbè Dai Spera alcuna mossa Ma fado più team Il suo Jumple E l'ho sterminato io E io invece Mi la sto cavando bene Contando che c'è un Pokémon Praticamente di 4 livelli Meno forte del suo Mai allenato Ci sta Ok Io uso Sabio Tomba Finalmente Prima avevo fallito Uh Indovina Mi ha crittato Anzi no Non mi ha crittato Urca Quasi finito Vediamo se vinco Se Papa No Papa continua a fallire Ma come è possibile Cambio con Gabby Così faccio un po' di esperienza Secondo me è il terreno Che ci fa fallire Perché ho fallito qualcosa Come 6 volte Io ho fallito solamente Una volta Mi sembra Con Un sabio Tomba Che potrebbe anche succedere Perché è tipo 90% di Precisione Ma dai Ma Mamma mia Che schifezza Sto Pokémon È davvero vigliacco Uh Goldie vuole imparare Dazzling Glimm Che è una mossa a folletto Sì Folletto E toglie anche un bel po' 80 80 speciali Quindi Lo stuisco Buon evento di fata Che toglieva invece la metà Quindi perfetto Perfetto Goldie è sempre più forte Quindi la tengo La tengo È un buon Pokémon Poi se impara Quella mossa Danza Come è che si chiama Danza Coleotte Si ho capito Quello che intendi Però Fa un botto di danni Se avete un Pokémon Tipo Terra O roccia Vi semplificate Ragazzi la vita In maniera Incredibile In questo pezzo Davvero Ho anche Erba e acqua Cosa del genere Perfetto Perfetto Ok A me basta che salga Fino a 24 Io sto affrontando Una copia di Anziani signori Di Poké Fanatici Ok Io ci vedo Questa cosa che mi hai detto Mi fa pensare A due ottantenni Che ancora Giocano con i Pokémon Ok Allora vediamo Che Pokémon hanno In Pokémon Fanatici Di solito Erba Giusto E no Qui c'è Un elettro Uno fuoco volante Fuoco volante E elettro Va bene Io devo comunque Far imparare a Rioma La mia mossa è tipo Terra Che abbiamo trovato prima Ragazzi Rocciatomba Quindi lo faccio adesso E così diventa Invincibile Questo Pokémon Vediamo se riesco A buttarlo giù Sì Ok Buttati giù In teoria Non hanno altri Pokémon Gabby è il 18 Molto bene Arley Quasi al 20 E siamo a posto Ok Allora un attimo Scusami Connor Che sto arrivando Ecco Bene Ho insegnato la cosa Adesso Li batto in 3 secondi E ci mettiamo in pare Intanto qui c'è una Ultra Ball Molto bene Uh un Selvatico Proprio nell'ultimo Cespuglio E uno Zappi Comincia a starmi Antipatico Zappi Allora Vediamo sti Poké Fanatici Mmm Sì C'hanno Zappi pure loro Zappi e Flo Sfighiato Oh in alto Si arriva a Thundrum Pass Cioè si arriva Praticamente dalla fine Di Thundrum Pass Quindi direi che Ci abbiamo fatta Proprio qui possiamo concludere l'episodio O vediamo Cosa c'è all'interno di questa grottole Eh guarda Fammi finire di battere questi qui E poi possiamo finire Io do proprio un'occhiata Dato che sono un po' più in vantaggio Tra virgolette Così non perdiamo tempo Vediamo se Sì Si arriva a Rustbolt City Grande Perfetto Quindi ci fermiamo qua Vi faccio vedere proprio Così proprio Uno Scorcio di città E nella prossima parte Appunto Insieme a Regent Andiamo a vedere E esplorare questa città Che già da questo Primo Diciamo così Da questo contorno Sembra davvero molto bene Ragazzi Quindi Io direi che Per questo episodio Può essere tutto Regent dammi l'ok Ecco Ho battuto adesso Questi fanatici Quindi ti raggiungo Quindi ragazzi Dammi il tempo Aspetta ancora Di vedere anch'io Questa città fantastica Certo Solamente fino al Fino al limite Poi basta Facciamo andare al prossimo episodio Nel tuo canale Ok Ok Senti la musica È la musica Della metropoli Quella di quella Megalopoli Di bianco e nero Con tutti i passanti Mamma mia ragazzi Che figata Non la riconosco Sinceramente Comunque vabbè Ci ho giocato anche poco A bianco e nero Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Mi raccomando Superiamo i 100 like Per il prossimo episodio Io ringrazio Regent Per la collaborazione Anche stavolta E il prossimo episodio Uscirà sul mio canale Domani alle 5 Esatto Non mancate Mi raccomando Ricordatevi Uno sul canale di Conrad Uno sul mio Quindi nella descrizione Trovate il link Di entrambi i canali E poi metteremo anche il link Nella notazione del video Per così siete sicuri Di non perdervi niente Esatto Quindi vi ringrazio Per la visione Ciao a tutti Ciao ragazzi